Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Shrosha, sono con la mia ragazza Ambra Ciao! E siamo appena arrivati a Carrara per il Carrara Show Siamo nella stanza, non so se si vedrà Siamo appena arrivati, ma non andremo subito in fira, siamo pronti per fare questo Ci stiamo per andare a tuffare in piscina Sotto già ci sono gli altri, quindi... Dai! Gente che lavora e che fa un vlog È arrivato un altro coglione Tutti stiamo sbloggeggiando Eccoci qua raga, vedete come si lavora, come si incrementa Siamo in piscina, noi adesso invece di andare in fiera Guarda c'è un multischermo qui, invece di andare in fiera Adesso se buttammo, ho detto a piccina con tutte le telecamere i telefoni Vai, vai Manegge Quindi 178,7 mila mi piace 178,9 mila euro che se ne vanno così Vabbè andiamo in fiera Siamo pronti a entrare nel padiglione dei videogiochi Venite, venite, venite insieme a me Siamo pronti ragazzi, siamo pronti ragazzi Al casino Ma, ma... No, non è vero ragazzi, è ancora chiusa la fiera No, non è vero ragazzi, è ancora chiusa la fiera Siamo pronti ragazzi, è ancora chiusa la fiera No, non l'ho presa Ragazzi, è trovato il gioco definitivo, lo Zord Ball Social Adesso vi faccio vedere in che cosa consiste Stop The Rock Stop The Rock ho vinto ho vinto io eh è delissimo il mio testimonio che ho vinto io è il secondo giorno siamo tutti belli carichi siamo carichi? siamo carichi? no vabbè siamo carichi e pronti per il secondo giorno sono in camera di Dexter ma non c'è Dexter Dexter? dove è Dexter? sento la tua voce ma non ti vedo oh no è morto il leone ok dove sei Dexter? tanto è uscita ma non ti non ti trovo senta ma non ti vedo è una tempessa del ghiaccio ma vedete che è travesse Elsa? aspetta sento sento un rumore Elsa? forse viene da qui oh era in Narnia è in Narnia è un mondo magico di un magico di Alife nel paese delle meraviglie siamo sul palco pronti a sfidare Ciccio Gamer un urlo ragazzi l'uomo magico di Alife ti fate tutti per me vero? sì hai sentito? hai sentito? ti fanno tutti per me vieni a si fa per me per la Juve e iniziamo questo match anche a sì anche a sì anche a sì l'uomo magico di Alife l'uomo magico di Alife che c'è la prima di reale che quest'anno sta giocando abbastanza male al Manchester E' il GOOOOOOL! Corazzo! Corazzo! Go! 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 Anna mia ragazzi! Un 1 per me! Stava il secondo! E' incredibile! E' il conto della merda! E' la corazzo! E' la corazzo! E' la corazzo! Il 1 per Cinco Games! A GENO! Il cult! Il cult! Da MET! NUMERO! E' un applauso al campione mondiale di FIFA 15! Mike! Un applauso anche a Cinco! A LAS Gregorã! Tutti! Sono l'ultimo a fare il vlog Perché ti puzza il culo Non c'ho più niente da dire Quindi chiudiamo qua Oh 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 Momento utopico Vai vai Momento utopico Abbiamo spacchettato Ragazzi siamo stati fortunati C'è un numero uno qui sotto Anche noi No, devi fare lo spacchettamento selvaggio Spacchettamento selvaggio Di chi era a dirla Ci possiamo trovare qui sotto Il nostro caro te Puoi trovare Ronaldo Puoi trovare Coca-Cola Puoi trovare Benteke Puoi trovare Vizcarronzo Vizcarronzo Quello è medio Sei grande picco Non c'era piccolo Ronaldo Il numero uno Che è questo? E' venire Ma c'è la caduccia Questo uomo Secondo voi Un uomo che pesa 60 kg Che hai ordinato? Allora Una pizza Da ieri a metà con lui Però non c'è Infatti mi sono complesso come Stephanie Noi io e Stephanie Ci dividiamo gli sgabelli Anzi gli sgabelli Gli sgabelli Gli sgabelli Sgabelli vuol dire Sedie Scrolla Comunque poi Un primo penne agli scampi Dopo una pizza ci sta Penne e pane Ma ci sta Ci sta Tranquillo La preoccupazione è in cui è in cui la faccia Klaus ha invece ordinato Spaghetti di tutti le mani E ci sta E un terzo le pizzano con me Ah è vero abbiamo anche un'altra pizza con Dexter No è vero Non sa la salva di me Cioè io volevo anche prendere gli antipasti di mare Cioè siamo in nove Un antipasto di mare per tutti Ci sta Non ditemi di no Ci sta E pagherà Dexter Si prende? Pagliamolo Chi si dice? No non ci sta Emenico è tornato Esatto Emenico è tornato Paga lui Emenico è tornato Ho trovato Messi E io sai che ho trovato invece L'Omanda Oggi tutti che trovano l'Omanda E lui che ci ha? Messi E io ci ho messi Il numero due E questo è il quarto vlog dove avete sentito Perché no c'è te che cazzo Perché noi siamo originali e non riceviamo le idee Qui si mangia Guardate che tavolata Anche odibile Le peggio cose No con Inception E però Inception Oh Con gli sgabei Che vanno giù per la palata Vabbè tanto in questo vlog non si vedrà niente E tantomeno si sentirà Klaus fa schifo Questo è il macello che hanno lasciato Anzi che lasciamo Alla fine della fiera Questi non sono normali Su di show Guarda Su di show Scherzo Allora ragazzi siamo in stazione Guardate le belle stazioni italiane In mezzo al ghetto Mamma mia Siamo con Dexter Siamo con Camila Siamo con Violetta E niente S'era una bellissima esperienza Però lascio la parola a Dexter Perché ha detto che chiuderà lui il mio video Ronaldo Toti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Shusha